Sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, nel comune di Alessandria, sorge uno dei più grandiosi esempi di fortificazione settecentesca in Europa. La cittadella La sua costruzione, voluta da Vittorio Amedeo II di Savoia, continuata da Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, ebbe inizio a partire dal 1728. La cittadella, a pianta stellare, è un perfetto esempio di fortezza moderna e si compone di sei fronti bastionati forniti di cavalieri, collegati da spesse cortine rettilinee e percorsi da gallerie e case matte. Sui bastioni, il 10 marzo 1821, venne innalzato per la prima volta nella storia d'Italia un vessillo tricolore. Nel 2013 è stata proclamata luogo del cuore FAI e nel 2014 è stata inserita da Europa Nostra e dalla Banca Europea degli Investimenti tra i sette monumenti europei da salvare nel programma Seven Most Endangered.